Capitano, siamo qua sul campo del Pala Yamamai al termine del match. Dicevamo prima con un coach schiavo, un match molto combattuto, una Nardini-Filottrano che ha fatto la sua bella figura. È mancato davvero poco per riuscire a girare un po' l'inerzia dei set. No, allora, devo fare i complimenti alla squadra perché ha giocato una palla a volo di ottima intensità, soprattutto i primi due set, stando leggermente sotto su 23 pari, 23-21, siamo riusciti ad arrivare a 23 pari. 25-24 noi nel primo. Mamma mia, diciamo che è stata una bella partita da parte nostra. Sapevamo che Busto è una corazzata, è seconda classifica, un motivo ci sarà. E quindi loro hanno giocato bene, noi siamo riusciti a starli dietro, abbiamo fatto una bella intensità, muro difesa, abbiamo fatto un po' paura. Bene, beh, anche una bella prestazione in vista della prossima, perché adesso abbiamo quattro giorni appena un attimo per rifiatare, poi si torna subito in campo, il 26, facciamo il tempo a festeggiare Natale, che arriva Scandicci, altro impegno molto importante. Esattamente, Scandicci è un'altra grossa corazzata, ma sono fiduciosa perché il pubblico di Iesi ci aiuterà a vincere. E poi senti, quei recuperi straordinari a cui ci abitui ogni match, anche stasera ci ha fatto vedere delle robe sorprendenti, davvero una menzione di merito, come fai ad arrivare su quei palloni? Non lo so, lettura, leggo il braccio e vado. Peccato, qualcuno in più poteva tirarlo su. Dai, però alla prossima. Grandissima Laura, grazie. Grazie, ciao.